Ma perché aveva il nostro numero come emergenza? Non lo so. Tu non hai più rivista? Eh? Ah no, non ho più vista. E pensi di andarci? Io là non ci metto piedi. Invece dovresti, sei il marito. Ma perché adesso dice questo? Perché abbiamo sbagliato tutto, Italo. Invece no. Io lo rifarei. E sbagliaresti ancora. Perché? Perché? Che altro dovevo fare, secondo te? Parlare. Tentare di capire, invece tu. Guarda, lasciamo stare.